SIGLA Alcune persone sono convinte che loro siano arrivati sulla Terra dopo il disastro ambientale causato dall'uomo e siano qui per estirpare il virus della razza umana dal pianeta che vogliono farci estinguere tutti. Dobbiamo restare vigili. Mi hai capito? Sì, sì. D'accordo. Ci vediamo qui prima che il sole tramonti dietro la collina. È stato un piacere vederti. Dai, sei in ritardo! Scusa, ho perso la cognizione. Siamo al sicuro? Sì. È tutto chiuso? Sì. Grazie, signore, di questo cibo che nutrirà i nostri corpi. Grazie perché tieni unita questa famiglia. Non voglio più nascondermi da loro. Che cosa facciamo? Non siamo uomini? Che stanno facendo? C'hanno intrappolati dentro. Stanno salendo verso Tironi. Arriveranno ovviamente. Devi fidarti di me.